Dopo il lungo periodo di pausa dovuto alla pandemia è finalmente stato di nuovo possibile incontrarci direttamente con gli agriturismi che fanno parte della rete Terra Nostra e Campagna Amica. Questo momento di confronto, un momento come questo, momenti di confronto sono fondamentali perché nel momento in cui inizia a riprendere il mercato di tutto quello che è l'ambito turistico, quindi del pernottamento, della ristorazione, diventa importantissimo avere un confronto con le imprese e capire su che cosa l'associazione possa lavorare nel prossimo periodo per offrire dei servizi che possano essere sempre all'altezza delle imprese in questione e anche dall'altra parte capire come riuscire a coinvolgere al meglio il cittadino consumatore in tutte quelle che sono le iniziative portate avanti da Terra Nostra e dal mondo Campagna Amica. Finalmente possiamo ritrovarci tutti in un'assemblea aperta, tutti i nostri soci di Terra Nostra dopo diverso tempo purtroppo, dovuto ovviamente al Covid che ci ha costretto a non vedere i nostri soci dal vivo ma sempre solo attraverso i nostri canali, attraverso i nostri corsi, però attraverso soprattutto il punto di internet solamente non dal vivo. Finalmente una riunione in cui possiamo raccontare tutto quello che Coldiretti ha fatto in questo periodo perché nonostante tutte le difficoltà Coldiretti ha portato avanti numerosissimi progetti per i nostri soci per far sì che Terra Nostra rimanga sempre in vista e che serva appunto per i nostri agriturismi a migliorare nel tempo. Per far parte di Terra Nostra Torino o comunque Terra Nostra in generale bisogna avere delle regole molto ferre avere delle aziende agricole strutturate, seguire appunto determinate regole per rendere l'agriturismo unico, vero e reale cosa non semplice ultimamente ecco. Tutto ciò consta e crea moltissimo lavoro ed ha numerosissime difficoltà per i nostri soci perché appunto garantendo tutto questo lavoro e questa serietà per riuscire a dare al cliente finale il miglior prodotto possibile cioè la valorizzazione del prodotto agricolo dall'azienda agricola al piatto in tavola. In un agriturismo i clienti ormai vogliono intanto passare una giornata diversa dal solito, una giornata genuina una giornata appunto diversa da quelle standard, da quelle che si vivono nelle nostre città e vuole assaporare attraverso i nostri piatti, attraverso la nostra gentilezza e la nostra accoglienza un'esperienza unica. Cioè noi siamo agricoltori e questo è il primo punto di partenza, la cosa più importante che ci sia perciò noi siamo i più capaci a raccontare i nostri prodotti, i migliori prodotti del nostro territorio o prodotti da noi o prodotti comunque da aziende a chilometri zero del nostro territorio e chi meglio di noi appunto può raccontarli perché ormai i clienti sono consapevoli di cosa cercano e di che cosa vogliono.